Roberta Gianluca, ultima puntata, abbiamo deciso di guardare al futuro, allora a settembre andiamo è tempo di migrare, siamo tornati qui in palestra, abbiamo lasciato i lettini e siamo arrivati in palestra dove si stanno allenando tantissimi atleti. Allora i buoni propositi di settembre al primo posto secondo un sondaggio c'è quello di rimettersi in forma, riconquistare la forma fisica perché magari abbiamo esagerato. Allora c'è forma e forma e adesso qui c'è il nostro Cesare, o ci andiamo, o zoomiamo, attenzione ragazzi ho paura, ho paura, il nostro Cesare che sta sollevando quanti chili, coach Maurizio? 80 chili, 80 chili, ammazza ma pure, è poca roba, molto di più, il segreto di Cesare è che non si è mai fermato. Allora diamo i segreti a chi sta a casa, il segreto è non fermarsi mai, continuare ad allenarsi sempre anche quando si è in vacanza con gli attrezzi che si hanno a disposizione ma continuare ad allenarsi sempre. Altrimenti poi se uno ricomincia... Altrimenti è molto più difficile ricominciare, è molto più traumatico per una serie di motivi. Traumatico, Cesare scusa una cosa, ma tu quindi come hai fatto? Mentre eri in vacanza dove li trovavi? 80-90 chili? Beh innanzitutto uno, non sono scuse diciamo, se uno si vuole allenare lo fa a priscindere nel luogo in cui si trova, uno può sempre benissimo allenarsi anche a corpo libero. Ma ci sei andato in vacanza? Io personalmente no, però quando vado in vacanza comunque mi alleno e trovo ritagli. Beh non vale, avete capito Roberta Gianluca, il segreto è che lui non c'è andato in vacanza. Abbiamo invece qui un signore, il signor Marco. I consigli per i pigri, per i pigri, non per quelli come Cesare che si allenano tutto l'anno, quelli come noi che... Ecco, allora i consigli per i pigri ci chiedono. Allora raccontiamo la storia del signor Marco. Il signor Marco ha avuto un problema cardiaco, ha ricominciato l'attività con una buona attività cardio e seguito con una scheda specifica proprio per lui perché ogni persona va allenata in una maniera specifica. E allora Marco lei ha cominciato, posi i bilancieri per favore, non sia mai che... Ecco, dicevamo lei ha cominciato oggi. Sì, praticamente dopo un rientro da una pausa vacanziera abbiamo ricominciato perché... Lei aveva perso un bel po' di chili. Sì, ho perso 25 chili e me ne mancano ancora qualcuno o una decina e questo perché dopo il problema che ho avuto ho avuto la necessità sia di salute che a livello mentale di poter stare bene. Capite? A livello mentale stare bene. Più mi ha detto una cosa, le ho chiesto sposato... Divorziato... Ah, si è interrotto il collegamento, Domenico. Torneremo subito da te, cerchiamo di ripristinare il collegamento e Gianluca qui il dilemma è forte perché sì, ok, rimettersi in forma ma anche con la testa bisogna entrare nell'ordine di idee di cambiare forse un po' anche stile di vita perché oltre all'allenamento bisogna curare un po' anche l'alimentazione. Le due cose vanno di pari passo. Abbiamo sentito il signor Cesare, evidentemente ha avuto anche un problema cardiaco, anche per questo giustamente aveva provato a rimettersi in forma. Allora, facciamo una cosa, tanto Domenico lo possiamo rivedere più tardi, ci sta? No, eccolo, eccolo. Eccolo, Domenico, ci siete, prego. Eccoci. Io non so se siamo arrivati allo scoop, Roberta e Gianluca. Siamo arrivati al fatto che il signore è divorziato. Anche per motivi di natura, diciamo, amorevole e quindi di sentimenti voglio rimettermi in pista al meglio. Ma Marco, capiamoci, lei viene in palestra per rimorchiare? No, vabbè, rimorchiare no, però insomma per sicuramente essere migliore in aspetto, essere più... Però Domenico stranamente sta facendo gli esercizi vicino, se non mi sbaglio alla sua destra, a una ragazza comunque, l'avevo vista prima. A una bella ragazza, la Benedetta. Non so se era un caso, ecco. Allora, Benedetta, Benedetta, però ci ha detto una cosa e con lei chiudiamo. Benedetta, tu mi hai detto che comunque ti sei sempre allenata perché sei un'atleta, però quest'estate cosa hai fatto? Tutti sport acquatici, quindi kitesurf, windsurf, anche beach volley. E ti mancava la palestra? Sì. Nel sondaggio che ho citato prima, fra i buoni propositi di settembre, c'è iniziare una nuova attività. Che vuoi iniziare, Benedetta? Beach volley. E qui la domanda è spontanea, dove lo fa il beach volley a gennaio-febbraio? Non fa freddo? No, ci sono dei posti che sono fatti apposta, quindi dei capannoni, diciamo, dove c'è la sabbia e i campi. Portano la spiaggia anche in città e d'inverno, un po' quello che vorremmo fare noi, arrivati all'ultima puntata. Assolutamente.